Con le squadre ai nastri di partenza, un fulminacce il sereno colpisce l'Aquila. Il club ha comunicato infatti ieri la separazione dal tecnico Roberto Cappellacci, salito sulla panchina aquilana a campionato in corso per sostituire l'esonerato Epifani, centrando il secondo posto e la vittoria nei play-off. Non sono noti i motivi che hanno portato alla rottura, forse questioni riguardanti il mercato, con ancora alcuni tasselli da completare, come un attaccante, un portiere under e un centrocampista, anche se il trainer Teramano è stato centrale nella scelta dei giocatori ideali al suo stile. Un faccia a faccia con la dirigenza ancora non è avvenuto, con Cappellacci che pare abbia avuto solo una lunga conversazione per telefono dopo che ieri pomeriggio non si è presentato all'allenamento. Una scelta che ha lasciato stupefatti i tifosi aquilani, con la società che ha comunque voluto ribadire nel comunicato come il club è già a lavoro per reperire un allenatore all'altezza delle ambizioni della piazza. Dopo un primo sondaggio per Augusto Gentilini, il nome forte sembra essere quello di Giovanni Pagliari, ex Monze e Frosinone, con un passato anche sulla panchina rosso-blu. Nel frattempo l'amichevole di domani contro Rieti è stata annullata con gli allenamenti che riprenderanno lunedì. A dirigere la squadra dovrebbe essere per ora il vice Michele De Feudis, ma insieme a Cappellacci potrebbe fare le valigie anche tutto il suo staff tecnico, compreso De Feudis. Amichevole annullata anche per il Teramo, che per motivi di ordine pubblico non disputerà la gara contro la Casertana, prevista per oggi pomeriggio a Roccaraso e ripiegherà con la classica partitella in famiglia. Si giocherà invece il secondo Memorial Francesco Di Battista domani alle 17 al Savini di Notaresco, con i padroni di casa che affronteranno il Giulianova e inaugureranno poi il nuovo antistadio intitolato proprio a Francesco Di Battista. I Tori Rosso-Blu sono attivi anche sul mercato, con la riconferma del centrocampista classe 2003 Marzio Di Bartolo.